Ciao bambini! Ciao ragazzi! State tutti bene? Anche noi stiamo bene e non vediamo l'ora di incontrarvi e stare un po' con voi. Passerà questo brutto momento e torneremo ad abbracciarci. Vi ricordiamo che la domenica alle ore 10 in tutte e tre le parrocchie c'è sempre la messa. Collegatevi su Facebook, Comunità Pastorale Santo Crocifisso. Vi salutiamo con gioia e vi diciamo andrà tutto!